Beh questo è un passaggio quanto meno discutibile, la gioca in profondità, sceglie di andare per via verticale, c'è un compagno largo, pronto a ricevere, infizza il portiere, due balli in più, è partita saldamente nelle loro mani. Qui hanno difeso benissimo in avanti andando a recuperare una palla preziosa, poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità e lì hanno davvero fatto la differenza.